Proseguono le iniziative del Comitato Cittadini per costruire l'accoglienza in Valle Seriana. Qual è il prossimo appuntamento? Buonasera, il prossimo incontro sarà giovedì 10 dicembre alle ore 20.45 e è stato organizzato in collaborazione con la parrocchia di Castione di Dorga e di Bratto. Presso la sala dell'oratorio di Dorga abbiamo organizzato un incontro dal titolo Costruiamo insieme l'accoglienza. Come gestire in maniera inclusiva e costruttiva l'accoglienza dei richiedenti asilo sul nostro territorio. Il problema dei richiedenti asilo è ormai da diversi mesi che ha preso importanza sul nostro territorio e c'è una grossa necessità di informazione, di conoscenza e questo incontro secondo noi è proprio indirizzato su questo obiettivo. Interverranno Bruno Gogis che è il presidente della cooperativa RUA che è la cooperativa che in provincia di Bergamo gestisce gran parte delle accoglienze dei richiedenti asilo e che fa capo direttamente alla Caritas Diocesana e Eugenio Torrese, direttore per l'Agenzia per l'Integrazione di Bergamo. Saranno presenti anche i membri dell'amministrazione di Castione della Presolana e dopo una breve esposizione del problema e della situazione ci sarà anche un ampio dibattito tra i presenti in maniera da cercare appunto di costruire insieme e di capire insieme come gestire questo fenomeno. Sicuramente complesso ma che probabilmente sarà il problema dei prossimi 20 o 30 anni e quindi ci sentiamo proprio in dovere di invitare tutti a partecipare a questo importante incontro. C'è poi una seconda iniziativa per questo mese di dicembre questa volta insieme alle parrocchie del vicariato Clusone-Ponte Nossa. Sì, ringrazio tutti. In pratica come succederà a Bergamo il giorno 20 di dicembre nei vicariati diciamo delle parrocchie di Bergamo abbiamo fatto nostra insieme alle parrocchie del vicariato di Clusone-Ponte Nossa l'iniziativa della tavola condivisa. La tavola condivisa è un momento in cui due profughi richiedenti asilo che sono nelle nostre strutture di rovetta e di castione della Presolana potranno pranzare insieme con delle famiglie che ne faranno richiesta e poi ci sarà un momento dopo il pranzo di raccoglimento presso l'oratorio di rovetta o di castione della Presolana dove ci sarà un gioco condiviso come una tombolata e poi ci sarà una preghiera tutti assieme alla fine della serata. È un momento sicuramente, uno dei primi momenti importanti di condivisione e io faccio proprio appello a tutte le famiglie del nostro vicariato che mandino la loro adesione e ospitino questi ragazzi questi ragazzi che hanno bisogno comunque principalmente lasciando perdere il loro status se sono richiedenti asili politici o se sono scappati dalla guerra sono comunque delle persone che hanno bisogno sicuramente di affetto e secondo me una cosa principale delle nostre comunità è proprio quello di dare affetto a queste persone che poi avranno un loro percorso, una loro storia quando poi saranno giudicate comunque dalle commissioni dunque è nato questo aspetto, questa iniziativa e si svolge in questo modo entro il 13 di dicembre devono pervenire le adesioni presso i parroci, c'è un elenco ovviamente di persone referenti e le famiglie daranno la loro adesione il 15 di dicembre presso la sala museale dell'oratorio di Rovetta ci sarà un momento di spiegazione di questa iniziativa anche per le persone che invitano a casa i profughi dunque per sapere come gestire la situazione e poi il giorno appunto 20 ci saranno le famiglie andranno direttamente presso le case a prendere i ragazzi e li porteranno alla loro casa ringrazio tutti anticipatamente della partecipazione a prendere i ragazzi e a prendere i ragazzi